Marta Menegatti e Valentina Cottardi al termine dell'ottavo di finale vinto contro Scampoli Bianchin. È stata una partita bellissima che ha divertito il pubblico. Che partita è stata? È una partita sentita ovviamente, perché appunto il derby è sempre derby come detto ieri, però credo che siamo state molto brave nella gestione sia tattica sia emotiva della partita, perciò siamo molto molto soddisfatte. Valentina, una vittoria che vi spalacca le porte al quarto di finale, quindi il sogno mondiale continua. Domani vi giocate qualcosa di importante, potete andare tra le prime quattro al mondo. Sì, domani sarà sicuramente una partita tosta, ma noi daremo il massimo e speriamo di farcela. Marta, per te terza volta, il terzo quarto di finale della tua carriera in una rassegna e ridata. Che emozione è? Pensare all'inizio e oggi qui a Roma? Diciamo che raggiungere questo risultato qui in casa è molto speciale, davvero molto speciale. Io lo ripeto, in ogni intervista per me è magico giocare qua. Lo è stato nel 2011, il mio primo mondiale qui. E oggi penso che lo è ancora di più, perché ho molta più consapevolezza e me la sto godendo, veramente, partita dopo partita. Domani di nuovo in campo, all'eventi contro il Canada. Che partita ti aspetti? Conosci le avversarie? Loro sono sicuramente un'ottima squadra, quindi noi dobbiamo mettercela tutta, sia fisicamente che mentalmente, saremo grintose e speriamo di riuscire a farcela. Grazie mille e complimenti. Grazie.